Porta compagni, entrate nello stesso, chiedeteci notizie, non avete riguardo, chiedeteci notizie e informazioni... Oh cara moglie, stasera ti prego, dia mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire, non sono cose che deve sentire, proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà, è la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, Se invece vince, perché i cromegri, gli dann la forza che lui non ha. Questo sedisto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, e con il padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovete vederli, venire avanti, rubati e piegati, e noi gridare, cromere e ventote, e loro tre che ti senta guarda. E i poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il portone, rideva allegro il barco padrone, gli ho maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, Dì a mio figlio che venga a sentire che ha da capire che cosa vuol dire Lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, Dì a mio figlio che venga a sentire che ha da capire che cosa vuol dire Lottare per la libertà. Che ha da capire che cosa vuol dire Lottare per la libertà. 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 Lottare per la libertà.